Oggi giornata mondiale della posta in un'epoca in cui la scrittura a mano in via di estinzione e la spedizione di lettere e della corrispondenza in generale è praticamente crollata. Eppure quel gesto che è quasi ormai ottocentesco di impugnare la penna e di lasciar scorrere l'inchiostro su un foglio di carta per creare un ponte con qualcuno, comunicare, narrando, per un luogo come il carcere è un atto prezioso e spesso salvifico, cioè salva le persone e soprattutto è particolarmente attuale. Lo sa bene Stefania Tallei che è responsabile del servizio in carcere della corrispondenza con i detenuti per la comunità di Sant'Egidio. Benvenuta dottoressa Tallei. Buongiorno a lei. Grazie di essere con me su un tema così bello, così delicato e se vogliamo che necessita anche di un po' di promozione. Perché scrivere a mano, peraltro, lo sottolineo, ci dice la scienza, fa bene proprio al cervello. Cioè scrivere a mano su un foglio attiva parti del cervello che piano piano si stanno addormentando perché usiamo troppo le tastiere. Ma questo è un altro discorso. Allora, dottoressa Tallei, la vostra esperienza vi dice che i detenuti scrivono spesso e volentieri? Con quali scopi e modalità? Allora, loro scrivono molto, anzi direi prima di tutto che è una loro iniziativa. Noi abbiamo cominciato e fatto questo servizio perché loro ci scrivevano dalle carceri, dai bracci della morte negli Stati Uniti. Cara comunità di Sant'Egidio, ci siamo conosciuti alla mezza, ora sto qui, ora sto qui in carcere, aiutami. E cosa chiedono, lei mi dice? Chiedono amicizia, chiedono direi la cosa più importante di non essere dimenticati e di mantenere un rapporto con la società, di restare cittadini. E questo è lo strumento di mantenere un legame. Poi chiedono un aiuto concreto, a volte chiedono i vestiti perché sono stati arrestati d'estate e si è fatto inverno. E chiedono aiuto per i documenti. Ricordo un signore che era arrivata per lui l'età di avere la pensione di vecchiaia e chiedeva aiuto e io l'ho aiutato per questo. Chiedono di essere ascoltati, scrivono poesie, preghiere. A volte ci sono delle corrispondenze che sono scambi di preghiere, di poesie, di pensieri. Quindi insomma la scrittura poi di fatto è vero che è il veicolo per comunicare un bisogno, però lei mi dice è anche un modo per mettere su carta quello che si ha dentro. Perché scrivere, questo è valido credo per tutti noi, nel momento in cui decidiamo di scrivere per chi lo fa, insomma in maniera come dire di slancio, per chi invece deve un po' ricercarlo il momento, però è un modo per mettersi in intimità con se stessi. Scrivere non è esattamente come comunicare verbalmente. Bisogna come dire pensarci, mettersi in contatto con quello che si ha dentro e poi formulare il pensiero attraverso la scrittura. Quindi è un gesto complesso in realtà per quanto possa sembrare invece istintivo. Per un detenuto è, come dire, forse un balzo in più, nel senso che è anche un modo per mettere su carta le inclinazioni e le attitudini che ha. Scrivere poesia è una cosa davvero speciale. Assolutamente. Io lo chiamo, quello della corrispondenza, dello scrivere, uno strumento antico e povero. Antico perché oggi lo percepiamo, alcuni non pensano più a scrivere con la carta, la penna, la busta, il franco bollo. Eppure è uno strumento prezioso, molto prezioso, perché consente di avviare dei rapporti. A volte, per quanto riguarda i detenuti, sono rapporti, relazioni che fanno la differenza nella vita di chi non ha più nessuno. Ma comunque hanno il valore di uno spazio libero in cui non solo non si è dimenticati, ma si può creare, costruire. Si apre, si scandisce il tempo, ecco, forse questo, si scandisce il tempo tra l'arrivo di una lettera e la partenza di un'altra. È vero. Questo è molto importante. È uno spazio riempito, uno spazio che prima era vuoto. E lì c'è una fantasia positiva di essere ancora parte della società e parlare anche, io ho parlato di poesia, preghiere, ma anche di ciò che accade nel mondo. Di ciò che accade dove sto io, per esempio. Non soltanto di ciò che accade nel carcere, ma anche ho sentito alla televisione, per quanto riguarda la comunità di tratticidio. Per esempio, ho sentito, oppure ho sentito quando c'è un terremoto, una calamità, immediatamente loro scrivono. E questo è veramente molto essere parte della società. È vero, essere presenti, essere scontornati come individui all'interno della realtà. Spesso questo non può accadere all'interno di un carcere, proprio perché è una realtà parallela alla realtà che viviamo noi, che siamo fuori. E spesso può non esserci osmosi. Anche se, diciamo, me lo lasci dire, dottoressa Talley, noi qui ci occupiamo di carcere, perché c'è anche un programma curato dal bravo collega Davide Dionisi, che si chiama I Cellanti, che tira fuori la voce del carcere. In carcere succedono veramente una marea, un oceano di cose belle, positive. L'abbiamo anche raccontato poco fa con un collega per quanto riguarda l'arte che entra in carcere. E da quello spazio di libertà di cui lei ha parlato, lei ha detto delle cose molto commoventi. Lo spazio della creatività, della libertà, quella che abbiamo dentro. Ma anche, ha nominato una cosa, perché lei mi ha anticipato, c'è l'elemento molto bello della prospettiva di qualcosa che potrà accadere. Cioè io spedisco e attendo la risposta. Quell'attesa è, come dire, piena di fibrillazione, piena di emozione, immagino. Sì, assolutamente. Questo accade ancora di più, dottoressa Talley. Lei ha nominato coloro che si trovano nei bracci della morte, in altre parti del mondo, negli Stati Uniti in particolare. Questo è veramente un aspetto, come dire, serissimo, drammatico. E con la scrittura si crea davvero un ponte vitale. Sì, è un ponte vitale. È un filo di vita che man mano si solidifica. Quando anche ci sono delle cose, sapete che queste persone aspettano nel braccio della morte 20 anni, 25, tempi lunghissimi, senza sapere se le loro istanze di giustizia, di vedere ridotta la loro pena in pena perpetua, la pena di morte, sarà accolta o no. E lì si crea un filo di vita che dura 20, 25 anni, 30 anni, con delle famiglie, ad esempio, con delle famiglie italiane o anche europee, che scrivono. E lì, ecco, c'è qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato. C'è l'aspetto di chi è libero e scrive ai detenuti a mano. Alcuni riscoprono con stupore la possibilità di scrivere a mano a qualcuno con i francobolli. Io non ho detto una cosa. Noi portiamo i francobolli ai detenuti. Noi quando andiamo in... Cose che portiamo è che è consentito portare i francobolli. Sì, perché tra l'altro anche quello è un problema. Nel senso che se poi il detenuto non ha il francobollo con cui spedire la lettera, diventa un problema. Vede, sono tutti oggetti di cui abbiamo perso un po' la dimensione, no? Che facevano la differenza fino a qualche anno fa. E per loro invece sono ancora presenti. Qualche volta hanno però la voglia di poter scrivere anche con le nuove tecnologie? O lo scrivere a mano per loro è un valore aggiunto? Allora, diciamo che le carceri si stanno dotando di un sistema mail che negli Stati Uniti comincia a essere per chi ha gli strumenti un pochino più evoluto. Qui in Italia loro possono scrivere delle mail, ma le loro mail sono dei fogli scritti a mano che vengono poi scannerizzati. E quindi ecco lo strumento resta ancora tra virgolette povero, ma molto bello perché nel foglio scritto a mano c'è una cancellatura, c'è un'espressione, c'è una faccetta. Ecco, ci sono delle espressioni che danno di più nella comprensione di quello che la persona vuole esprimere. Certo. Senta, dottoressa Talley, una domanda in chiusura della nostra bella chiacchierata. C'è la possibilità per dei cittadini comuni attraverso di voi per poter dialogare con i detenuti o è qualcosa che non si può fare senza un'autorizzazione a un'organizzazione come la vostra? Noi aiutiamo le persone che chiedono di corrispondere con un detenuto, più con un condannato ai detenuti è un po' più difficile perché le loro pene per fortuna non sono perpettue, sono poche quelle di corrispondere e quindi tendono ad uscire comunque anche con i detenuti. Noi abbiamo comunque nel nostro sito tra le possibilità di come aiutare i poveri c'è anche questa corrispondenza e ci chiedono tantissime persone, penso che abbiamo messo in contatto 15.000 persone libere e con 15.000 persone. Caspita, sono veramente tante. Senta, voglio ricordare il sito, dottoressa Talley, per chi volesse mettersi in contatto con voi e dare il proprio contributo. santegidio.org, ho detto bene? Certo, sì, sì, s-a-n-t, santegidio.org. Perfetto. Grazie, siamo molto felici di rispondere. Grazie a voi. Grazie a lei, invece di avercelo ricordato, che c'è anche questa possibilità. Si può dare un aiuto, naturalmente aiutando anche materialmente, chi è a disagio, donando tutto quello che si ha. Si può donare però anche in questo senso ed è forse davvero un dono immenso, forse incalcolabile, no? È che non può avere... Si è incalcolabile. Lo è, veramente. Benissimo, ricordiamo il sito santegidio.org per chi volesse attivarsi a scrivere con anche i condannati che sono dall'altra parte del mondo. Faremmo davvero qualcosa di molto grande.